Mattia Cigalini benvenuto, giovanissimo quanti anni hai? 23 eppure eppure ragazzi abbiamo una colonna e da poco tornato da New York è stata la tua prima volta in assoluto dove hai presentato il tuo nuovo behind è considerato Mattia Cigalini il nuovo astro del jazz italiano tutto è cominciato per gioco? sì quarta elementare? sì terza quarta elementare un po' per gioco e un po' per necessità perché io soffrivo da bambino di questa forma di asma respiratoria per la quale appunto mi venne consigliato uno strumento a fiato allora guardate davvero la vita come porti dei segni davvero imperscrutabili allora fra l'altro io so che tuo papà è appassionato di clarinetto tua mamma invece di chitarra classica a 7 anni si presenta questa asma ed è un dottore quindi un astro nascente del jazz italiano nasce da un problema di salute e dal consiglio che si sente di offrire un medico che era quello proprio di prendere uno strumento a fiato quale hai cominciato a prendere per questo? ma io in realtà ero molto indeciso nel senso che ero affascinato dal clarinetto di mio padre mi piaceva tantissimo mi piaceva il suono e un po' in un certo senso credo che mi piacesse l'idea anche di suonare lo strumento di papà però tuttavia abbiamo anche un'immagine io sì ecco infatti questa è la foto del mio primo servizio della banda musicale del mio paesino a Gazzano in provincia di Piacenza ci sono io e mio padre e io infatti sto suonando invece uno strumento diverso da quello che pensavo perché ricordo ancora come se fosse ieri il giorno che in casa mia appunto stavo sfogliando l'enciclopedia degli strumenti musicali con mia madre e mia madre mi disse ma guarda il sax invece quanto è molto più bello e luccicante la sua luce dorata esatto del clarinetto perché non provi il sax? allora io mi fidai e oggi devo dire grazie a mia madre a maggior ragione è certo un passaparola che è nato fra artisti tant'è che questo talento è stato riconosciuto come tale in Giappone dove so che hai dei fan già giovanissimo però insomma anche questo e anche negli Stati Uniti e di fatto diciamo che i tuoi inizi ti hanno visto praticamente così bravo così giovane però suonare con ragazzi che in realtà poi di anni ne avevano 20 e tu 7-9 praticamente sì insomma è una vita un po' particolare quella del musicista perché cresci un po' prematuramente ti trovi a doverti plasmare molto più in fretta di altri come individuo perché insomma c'è il discorso del palcoscenico del contatto con tante persone e che è un po' anche il discorso affascinante di questa vita perché comunque la musica ti catapulta immediatamente nell'arte degli incontri ecco ad esempio a proposito di incontri questo è un bellissimo incontro che è nato proprio due settimane fa a New York con Francisco Mela che è un batterista tra i più famosi in assoluto del pianeta e Peter Slevov che è un altro contrabassista entrambi risiedono a New York e ci siamo incontrati nel Bronx a fare una session di prove che è stata molto molto proficua perché adesso loro faranno parte del mio nuovo trio che appunto ho battezzato Mattia Cicalini New York Ah fantastico! Senti fra l'altro io so che proprio durante uno dei tuoi viaggi all'estero per un concerto che è capitato qualcosa che ti ha segnato nel profondo tu controllo eri molto legato? Legatissimo sì, ero legatissimo e che dire mi trovavo in Francia per un concerto e ho avuto fin dalla mattina che mi sono svegliato dopo il concerto una sensazione stranissima come se stesse capitando qualcosa di orribile non so non potrei spiegare a parole quella sensazione però sono sicuro che tutto era fuorché casuale infatti poi tornando a casa io mi senti telefonicamente con lei nel tragitto ma quando arrivai proprio nella via di casa mia trovai le ambulanze tutto quanto e mia madre aveva avuto un infarto assolutamente inaspettato perché godeva di ottima salute, aveva soltanto accusato un mal di schiena e il medico non aveva saputo riconoscere questi sintomi di preinfarto invece che dire la vita è questa e bisogna essere uomini secondo me andare avanti e cercare insomma la forza necessaria per Tu sei stato forte, so che è in musica che hai espresso questa tua vicinanza Sì sì, la musica mi ha aiutato tantissimo, sì senz'altro e tant'è che infatti c'è un particolare strano che riguarda il mio nuovo album Beyond ovvero il giorno dei funerali di mia madre io dovete tenere quello che io tuttora descrivo come il concerto più difficile della mia vita perché insomma in chiesa con tutti i presenti, tanti amici, fu veramente un funerale enorme vissuto con grande partecipazione, io voglio comunque improvvisare qualcosa diciamo davanti a tutti i presenti e ne scatturì una melodia abbastanza forte talmente forte che me la ricordai nelle settimane a seguire e ne strapolai un brano e questo brano appunto io lo intitolai Beyond anche perché significa al di là di oltre e quindi chissà, non so dove però io penso che sia una dimensione che esiste e quindi ho voluto proprio dedicare il mio nuovo album Beyond ed è proprio questo il brano che ci farei ascoltare questa mattina quindi pensate cosa c'è dentro il cuore di un ragazzo dietro le note che stiamo ascoltando si provo, grazie 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 Mattia Ciganini Grazie Ci hai fatto veramente emozionare sapendo come sono… eh come è nata questa questa musica Grazie Grazie In bocca al lupo per tutto sei davvero giovane e bravissimo farei grande strada Ne sono sicuro dai